Ci siano un po' di qualche aspetto da dire su questa partita. Prima che è una partita chiaramente insidiosa per varie difficoltà. Il fatto che loro hanno vinto quattro partite in trasferta, il fatto che ci sono dei cambiamenti nel roster, il problema è che è sicuramente un giocatore di grandissimo talento, NBA, non abbiamo idea di che condizioni arrivi, del rientro di Kangur, del fatto che a livello praticamente tecnico-tattico, quando loro giocano con i 2-5, che sono due grandissimi tiratori come Callan e Kangur, scambiandosi sul pick and pop, ci possono dare dei fastidi. Ci sono degli aspetti sicuramente insidiosi di una partita che vede due squadre con gli stessi punti. Però mi sento di dire che io sono di Cantù e come tutti i canturini, non sono chiaramente, come ho detto nella conferenza stampa che abbiamo fatto l'altra volta contento l'opposizione della mia squadra in classifica, la squadra che alleno e la squadra che tifo. ma nello stesso tempo so che noi daremo il 2.000% per vincere questa partita. so che al di là delle giuste critiche fatte nei miei confronti, nei confronti della squadra, nei confronti della posizione classifica, so che tutto il pubblico sa che è Cantù Varese. e io come tutti quelli che vengo avanti a fare qua la partita, so che darò il 2.000% e nello stesso concetto che ho trasferito, sto trasferendo e continuerò a trasferire fino alla palla 2 ai nostri giocatori. quindi ci sarà un pianella molto caldo che ci spingerà e che noi cercheremo di spingere e che daremo veramente tutto per portare a casa questa partita e cominciare a togliersi delle soddisfazioni dopo tanto lavoro fatto e che magari ancora adesso non sono state prese totalmente. quindi siamo consapevoli, siamo pronti, dobbiamo ancora fare qualche allenamento di rifinitura e sono sicuramente eccitato, come è eccitata la squadra, di fare una partita del genere e anche dopo tanti anni ho anche un grande orgoglio di rappresentare ancora una volta la mia squadra, la squadra della mia città, la squadra con cui sono nato e cresciuto e diventato grande nell'affrontare un verbi così storico e così pieno di importanze.